Gerola Alta. 5 settembre 2023 Airplane crash la sera nella zona di Morbegnese. Un elicottero Eliaustria con tre persone a bordo. Alla fine del lavoro nella zona di Bergamo. È caduto intorno alle 2100 a Val Pianella. Località Selva. Circa 2000 metri sul livello del mare nell'area municipale di Gerola Alta. Tutti vengono salvati. Quello un po' più grave è il pilota austriaco. Per dare l'allarme all'esclusivo centrale 112 è stato uno dei componenti dell'equipaggio. Quello che è stato meno gravemente ferito viene immediatamente. Siamo caduti con l'elicottero. Siamo tre. Uno di noi non parla. Non possiamo capire le sue condizioni. Diverse veicoli di salvataggio sono stati deviati sulla scena tra ambulanze e pompieri dei pompieri. Per cercare di raggiungere l'area il prima possibile. In cui si è verificato l'incidente. Per fornire un salvataggio ai tre membri dell'equipaggio che hanno portato la vera estensione dello stesso.